Abbiamo smesso di crederci, è bastata una sconfitta per tornare per terra, per smettere di crederci, per tornare intertristi. Sapete cosa penso? Io penso tre cose. La prima, che questa partita andava vinta sul campo, il 6 gennaio però, il 6 gennaio. La seconda, che dopo tutto quello che è successo, questa partita andava vinta 3-0 a tavolino. E invece no, qualcuno si incazza e per non farli incazzare la facciamo rigiocare. Terza cosa, questa sconfitta la dedico a tutti quei fenomeni che dicevano Noi le partite le vinciamo sul campo, non le vinciamo a tavolino come la Juve. Scemi di merda! A tavolino abbiamo vinto uno scudetto e ce lo teniamo stretto e ve lo tenete stretto. Vi fate solo pigliare per il culo. Venendo alla partita credo che abbiamo cominciato alla grande con quel super gol di Perisic. Abbiamo provato a raddoppiare e non ce l'abbiamo fatta. Fino alla mezz'ora stavamo giocando bene, poi abbiamo preso un gol da Arnautovic di testa e Di Marco non va bene con Arnautovic. Là con bastoni non l'avrebbe presa. Ma ci può stare, 1-1 ci può stare a fine primo tempo. Nel secondo tempo quelli si sono chiusi indietro ed è diventato difficile far gol. Poi c'è stato l'episodio, io non me la sento di crocifiggere Radu. Non giocava da parecchio tempo, probabilmente doveva giocare prima, doveva avere più fiducia. Prenderlo, metterlo nel campo, così, in una partita importante è un azzardo. Ma vorrei vedere ognuno di voi che criticate, vorrei vedere ognuno di voi che criticate, messo lì, se non avesse fatto errori. Volevo proprio vedere. Io sto con Radu, povero ragazzo. Non vorrei stare a suo posto sicuramente. Stai sereno, Radu, è capitato anche ai più grandi. A Buffondo, Naruma, Neuer e persino a quell'ex Roma che gioca a Liverpool, come cazzo si chiama. E comunque non facciamo i disfattisti perché mancano ancora quattro partite. Ne mancano quattro anche al Milan. E non pensate che il Milan le vinca tutte e quattro e che noi non le vinciamo tutte e quattro. Stiamo sereni, abbiamo fiducia e poi alla fine tireremo le somme. Cominciamo a vincere queste cazzo di quattro partite e andiamo a riprenderci sto cazzo di Scudetto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.